Il Palazzo dei Vicari, in Scarperia, ha gestito una delle prime secche di l'exhibito Il Mugello, il cradolo della renaissance. Il foco è su Medici in arms. Alcuni portratti di medici illustrii vengono dalla Galleria Uffizi. Cosimos, da Bronzino, e Duke Alessandro, paventato da Vasari. Giovanni Battista Naldini è l'autor di Giovanni d'Allevande Nere, qui con la sua esposa, Maria Salviati. E è questa stessa figura histórica, il grande capitano militare, patriarca del gran ducal branch della famiglia, che invitiamo a esplorare le costumi militari rinascenti con la armatura e l'armatura del tempo. Non è più un posto perfetto che il Palazzo dei Vicari XIV per gestire questa giornata. La carta 5 euro Mugello Culla del Rinascimento card, buona fino al giorno dell'exhibition, riavita l'admissione alle altre locazioni. Palazzo Medici Riccardi in Florence, Museo della Manifattura Chini a Borgo San Lorenzo, dedicati alle villas di Medici, il Convento di Bosco e Frati, in San Piero a Sieve, con works di Donatello e Brunelleschi, e il Tuvicchio, dove puoi vedere paintingi di Giotto, Beato Angelico e Andrea del Castagno. E molti altri benefici sono disponibili. Le giornate di queste 4 locazioni sono standardizzate per l'occasione di settembre a settembre. Una tour di guida e un bus da Florence a tutte le locazioni sono disponibili a settembre. Mugello Culla del Rinascimento, Chiara Valentini, C10. Mugello Culla del Rinascimento